L'account Instagram della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato hackerato. Per una manciata di minuti, nella serata di domenica 17 marzo, mentre Meloni era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto, sul suo profilo è comparso un post con la scritta Grazie a Elon Free BTC e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk. Il post è rimasto solo pochi minuti sul profilo della Presidente del Consiglio ma superato i 250 like, poi è stato subito cancellato. Anche la storia Instagram sui Bitcoin è stata pubblicata e cancellata nel giro di pochi minuti. Si tratta di una campagna di pishing molto nota. Il post ripubblicato sul profilo di Meloni non è di Elon Musk, probabilmente fa parte di una vecchia truffa o è stato modificato. Dopo alcuni minuti l'intrusione sul profilo della Presidente del Consiglio italiana è stata risolta ma intanto sui social si sono già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati. Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale. Palazzo Chigi ha confermato l'attacco informatico e ha subito fatto sapere che il profilo hackerato è quello personale storico di Giorgia Meloni. Qualche ora dopo l'attacco informatico la Presidente del Consiglio ha aggiornato i suoi profili social, compreso Instagram, scrivendo un post relativo alla missione in Egitto. Oggi a Il Cairo abbiamo raggiunto importanti obiettivi. La dichiarazione congiunta adottata dall'Egitto con l'Unione Europea insieme agli accordi intergovernativi con l'Italia segnano passi avanti significativi verso un partenariato integrato per affrontare le sfide regionali, favorire lo sviluppo e contrastare la migrazione illegale. Attraverso il lavoro diplomatico, stiamo aprendo una nuova pagina nelle nostre relazioni bilaterali, con un focus sul dialogo politico e la cooperazione economica. Inoltre, sono lisa di annunciare l'adozione di intese bilaterali per rafforzare la collaborazione anche nel quadro del Piano Mattei per l'Africa, testimonianza del nostro impegno verso la pace e lo sviluppo della Regione.